Hai sentito? Certo, è l'evento dell'anno. L'hai vista? Sì, è una piccola grande cosa. Cento cose card. L'unica tessera per avere a prezzi scontatissimi tutto quello che ti piace di più. Alla Rinascente, alla Ricordi, nelle librerie Mondadori per voi, presso il Cinema 5 e da Jean-Louis David di Fusione. Cento cose card. In regalo con cento cose di ottobre. Non perdere cento cose di ottobre. Ti aspettano quattro mesi di incredibili vantaggi. Grazie a tutti.